A 46 anni di distanza, il caso della battaglia di Arzello è di nuovo aperto. È quanto deciso dalla Procura di Torino a seguito di un libro inchiesta e soprattutto di un esposto di circa un mese fa da parte di Bruno D'Alfonso, figlio di Giovanni, l'appuntato dei carabinieri originario di Penne, morto nel 1975 in un conflitto a fuoco con dei brigatisti. Le BR avevano sequestrato l'industriale dello spumante Vittorio Valerino Gancia. Con i soldi del riscatto avrebbero finanziato la lotta armata. Però nella cascina nei pressi di Aquiterme, dove era tenuto l'ostaggio, si presentarono i carabinieri. Per caso, secondo la storiografia ufficiale. Nel conflitto a fuoco che ne seguì perse la vita, oltre ad Alfonso, anche Margherita Cagol, moglie di Renato Curcio, che secondo molti fu giustiziata mentre questa era a terra, disarmata, con le braccia alzate. Un altro militante delle Brigate Rosse, lì presente ma riuscito a fuggire, non è mai stato identificato. Oggi, in seguito alle intercettazioni in carcere dei cosiddetti prigionieri politici, emergono nuovi elementi. Le notizie sulle varie versioni di questo conflitto a fuoco erano sempre un po' contrastanti tra loro, quindi diverse. Ma soprattutto c'era un personaggio che è sfuggito alla giustizia, che era presente, quindi un brigatista che non è mai stato perseguito per questa vicenda. Io mi aspettavo che fossero riaperte le indagini o comunque non fossero state chiuse così affrettatamente dopo sei mesi dal conflitto a fuoco. Perché secondo lei così rapidamente? Che cos'è che non torna in questa storia? Ma questo non lo so. Io adesso sono felice del fatto che con il mio esposto le indagini siano state riaperte nonostante tutto questo tempo. E posso soltanto constatare che effettivamente se sono state riaperte qualcosa di strano insomma si è emerso. Una storia, come molte altre degli anni di Piombo, dai tratti oscuri, tra versioni contraddittorie e perfino l'insabbiamento. In quegli anni era il generale dalla Chiesa, l'uomo dello Stato, deputato a contrastare i tentativi insurrezionali. La battaglia di Arzello aprì la fase più cruenta della lotta armata, anche per vendicare la morte della Cagol. Tre anni dopo, nel 78, fu sequestrato Aldomoro. Se c'è qualche persona che non ha mai pagato per questa vicenda è giusto che paghi, anche adesso a distanza di anni. Ma io questo lo dovevo per la memoria di mio padre perché questo è un segno di rispetto nei suoi confronti.